Composizione del catrame. Il principio attivo del sapone al catrame di buona qualità è il catrame di betulla. È una sostanza marroncina con un tipico odore che si ottiene durante il processo di distillazione della corteccia dell'albero. In realtà è la resina del legno ricca di telesostanze benefiche della pianta VAT, ben conosciute i nostri antenati lontani, che usavano questo rimedio naturale di fitofarmacia, per diversi scopi medici e di solito nella sua forma pura. Incuriositi dalle proprietà curative del catrame gli scienziati moderni hanno esaminato la sua composizione e vi hanno trovato Fenoli Componenti con proprietà antisetti, guaiacolo, sostanza antisecca e battericida, fitoncidi, antibiotici naturali ed antiseci. Cresoli Componenti antinfiammatori, quei minerali e microelementi, indispensabili per la salute della pelle e dei capelli. L'odore specifico del sapone è dovuto agli oli essenziali di conifera concentrati nel catrame. Questo odore è repellente per gli insedi ed ha effeo antivirale. Quindi le nostre nonne avevano ragione, è giusto usare il sapone al catrame per combattere i pidocchi ed alcune malattie cutanee. Proprietà Quando il sapone non esisteva ancora per lavare i capelli il catrame doveva essere mescolato con la cenere. Il catrame si diluisce difficilmente nell'acqua quindi non era facile lavarlo via completamente. Per fortuna, da oggi giorno si produce sapone contenente non più del 10% del catrame, mentre altri componenti permettono di lavare bene i capelli ed il cuoio capelluto. D'altronde, una concentrazione così bassa riduce le proprietà utili di questo prodotto. Tuttavia, il sapone naturale ha le seguenti proprietà benefiche. Tuttavia è antinfiammatoria, riduce velocemente rossore di irritazione della pelle, elimina il prurito. Tuttobattericida La chioma, quindi può essere usata tranquillamente anche dalle donne bionde. Ricordate che il sapone al catrame uccide non solo microflora patogena ma anche quella salutare, quindi il suo uso frequente può causare danni a abbassare le proprietà protettive della pelle. Modi d'uso I modi d'uso del sapone al catrame per lavare i capelli possono essere diversi a seconda dello scopo. In alcuni casi può bastare semplicemente lavarvici la chioma, in altri invece bisogna lasciare il sapone sulla testa o aggiungerlo alla maschera. Tuttavia, ci sono regole comuni d'utilizzo del prodotto legate alla sua specificità. Contro i pidocchi Per dire la verità, oggigiorno il sapone al catrame contro i pidocchi non è il metodo più sicuro ed efficace. Nelle farmacie potete trovare spray ad azione rapida in grado di eliminare completamente pidocchi e lendini dopo uno o due applicazioni. Il problema è che gli insetticidi sono pieni di sostanze chimiche e hanno molte controindicazioni. Nei casi in cui questi prodotti non possono essere usati, il sapone al catrame potrebbe diventare l'unica soluzione. Per eliminare gli insetticidi il sapone deve essere usato in questo modo, lavate bene la testa con shampoo normale per pulire il cuoio capelluto ed i capelli dal grasso e dalle impurità. Sciogliete un pezzo di sapone al catrame in una piccola quantità di acqua ed insaponatevi le mani per ottenere tanta schiuma. Applicate la schiuma sul cuoio capelluto e distribuitela sui capelli in modo uniforme. Mettete la cuffia in cellofane e coprite bene la testa. Lasciate in posa per almeno 30 minuti fino ad un'ora, quindi pettinate meticolosamente la chioma con il tinefi e coprite le spalle con un lenzuolo. Lavate bene i capelli ed il cuoio capelluto, asciugate la chioma ed esaminatela lentamente. Se ci sono lendini rimasti levateli con le mani. Ripetete la procedura dopo un giorno fino ad eliminare gli insetti ed i lendini. Di solito, in caso di ridora quantità degli insetti può bastare una sola seduta. Invece nel caso di una forte infestazione sarà utile usare un potente insetticida prima di fare altri due a tre lavaggi con il sapone al catrame. Contro la forfora In questo periodo cercate di non usare lo shampoo normale o altri prodotti per lavare la chioma. Il sapone al catrame lascia una pellicola sottile sulla pelle quindi rimane efficace fino al lavaggio successivo. Invece lo shampoo lava via questa pellicola riducendo così l'efficacia della cura. Malattie cutanee Vi sconsigliamo vivamente di curare per conto vostro con il sapone al catrame malattie del cuoio capelluto serie. Come la dermatite allergica, la psoriasi, eccetera. Questi problemi richiedono una terapia medicamentosa e controlli medici irregolari. Di solito all'aggravarsi della malattia il medico prescrive farmaci potenti, spray pomate e compresse ormonali. Il vostro medico curante vi potrà dire se potete lavare la testa con il sapone al catrame nel periodo di rimessione per accelerare la guarigione di irritazioni e ferite. In alcuni casi questo rimedio può essere veramente d'aiuto. Tuttavia, a volte questo sapone può provocare un nuovo aggravamento perché la grande quantità di fenoli e oli essenziali può notevolmente irritare la pelle sensibile o affa dalla malattia. Particolari d'uso Persino un prodotto così utile naturale come il sapone al catrame non è adatto a tutti. La controindicazione principale è l'intolleranza personale, che si manifesta abbastanza frequentemente. Quindi, se non avete mai lavato prima la testa con il sapone al catrame fate un test di allergia applicando la schiuma fitta sulla pelle. Se non si manifesta alcuna reazione negativa entro 15-20 minuti potete usarlo tranquillamente. I consigli degli specialisti Non insaponate i capelli con la saponetta Fate la schiuma tra le mani o preparate la soluzione saponosa tiepida. In forma liquida il sapone si distribuisce meglio sulla chioma e si lava via meglio dalla pelle. Lavate bene la testa dopo l'applicazione del sapone al catrame, che altrimenti sui capelli rimarrà una patina grassa sgradevole. Il catrame Non si diluisce bene nell'acqua. Se avete la pelle seo-ipersensibile aggiungete alla soluzione saponosa un chiaio di olio naturale di buona qualità, di ricino, di bardana, pa di mandorla. Evitate il contatto della schiuma con gli i e la mucosa, se è successo lavateli bene con acqua immediatamente. Non usate questo rimedio se avete i capelli rovinati dalle colorazioni o dalla piega permanente e le due punte. Secondo le recensioni di molti utenti, usato correttamente questo prodotto può diventare un buon rimedio domestico, che tavia non deve essere applicato continuamente. A scopo preventivo basta lavare la testa con il sapone o lo shampoo al catrame 2 a 3 volte al mese. Per scopi terapeutici, invece, fate un ciclo di cura di 2 a 3 settimane, dopodiché acquistate uno shampoo normale di buona qualità. Punto